Un cordiale saluto a tutti gli amici sant'agatesi sparsi nel mondo. Oggi è domenica 16 ottobre 2016 e la Santa Madre Chiesa festeggia San Gerardo Maiella. Anche noi a Sant'Agata, come di consuetudine, dalla Chiesa di Sant'Antonio, la Chiesa dell'Annunziata, celebriamo la festa di San Gerardo e questa sera usciranno in processione le figure dei Santi Gerardo e San Leonardo. A tutti voi amici all'ascolto, buona preghiera e buona visione a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. San Gerardo. 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 sollievo degli afflitti, sancerato angelo della pace nelle famiglie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prega per noi orgoglioso sancerato, pregiamo, Signore Padre nostro che ai reggi il tuo servo gerardo, paziente nella pressità, austera nella pazienza, curioso nelle tribolazioni.